buongiorno buongiorno a tutti allora oggi primo tutorial in collaborazione con la beat park in questo tutorial voglio cioè vado ad utilizzare i riboli con effetto crack le che ho preso e sono bellissimi sono da 12 mm e adesso vi faccio vedere il codice questo è il codice di questi meravigliosi rivoli allora quanto sono belli belli bene quindi voglio andare a creare insieme a voi l'altro orecchino questo è l'orecchino gli orecchini sono i tristi cuori allora cosa ci serve ci per realizzare questi orecchini delle rimanenze di drop duo io avevo queste rimanenze e ho deciso di farci questi modulini per poi andare a creare questi orecchini oppure ci possiamo anche creare un bracciale ovviamente se ne abbiamo un pochino di più allora drop duo rivoli da 12 millimetri rocaille toho da 8 che serviranno poi per incastonare il rivoli 11 0 e 15 0 sono tutte della toho sono le permanent finish galvanized starlight poi filo e il mio fireline quello smoke poi lago va bene è un ago misura 10 della poni a poi abbiamo bisogno ovviamente della monachella queste in acciaio dorato e degli anellini questi sono sempre in acciaio dorato ecco qui quindi questi sono i materiali che ci occorrono allora ragazze vi mostro come creare i cuoricini è veramente semplice allora aspettate che mi sposto un pochino le 15 dobbiamo inserirci nella nel foro basso quindi nella puntina della nostra della nostra drop duo inseriamo l'altra nella stessa posizione quindi tiro il filo tiro il filo e vado a prendere due rocaille 11 0 quindi due rocaille 11 0 e aspettate che metto in posizione ok in questo modo risalco nel foro della drop duo tiro il mio filo e questa metà di pochino l'abbiamo fatta ora qui al centro andiamo ad inserire una rocaille 11 0 quindi una 11 e mi inserisco nel foro della drop duo accanto ecco qui qui facciamo la stessa cosa vado a prendere due rocaille 11 0 e mi inserisco nel foro basso come vedete nel foro basso delle drop duo e ho ottenuto questa questa diciamo questa sorta di cuoricino aspettate che mi avvicino così vedete anche meglio ecco qui adesso io risalvo attraverso le mie 2 11 0 tiro il filo per bene e qui visto che dobbiamo andare a creare la prima curvatura del cuoricino dobbiamo inserire 5 rocaille 15 0 quindi 5 rocaille 15 0 2 3 4 e 5 ci inseriamo quindi nella 11 0 scusate nella 11 0 ecco qui questo modo abbiamo la prima curvatura adesso creo la seconda curva del cuore sempre con 5 rocaille 15 0 quindi ragazze veramente semplicissimo realizzare questi cuoricini e comunque li ho utilizzati questi cuori anche negli orecchini alice in wonderland so se li avete visti se non li avete visti ragazze andate a vedere che sono bellissimi ecco qua quindi inserisco sempre nelle due rocaille 11 0 e adesso abbiamo fatto la seconda curva del cuore vedete che questi fili si incontrano io li vado a chiudere con due nodini quindi faccio primo e il secondo quindi tiro per bene ok adesso devo andare a prendere 5 rocaille 11 0 2 3 4 e 5 11 0 e ci dobbiamo inserire nelle due 11 del lato opposto in questo modo andiamo a creare la punta del nostro cuoricino ecco vedete in questo modo adesso risaliamo attraverso le 15 quindi esco dalla 15 0 15 0 che si trova vicino alla 11 ecco qua devo inserire ora un'altra 11 0 e mi inserisco come vedete nelle 15 successive perché adesso da questa 11 0 noi andiamo a creare la solina per poi poter collegare i nostri cuoricini ora portiamoci ad uscire dalla aspettate quindi passiamo in tutte le nostre rocaille ecco qui passiamo attraverso tutte le nostre rocaille ed usciamo dalla rocaille centrale della nostra punta quindi la terza rocaille sarebbe perché abbiamo inserite cinque dobbiamo inserirci nella terza rocaille quindi qui vedete vado ad inserire 6 15 0 quindi 2 3 4 5 e 6 rocaille 15 0 perché creiamo la prima a solina ecco qui quindi andiamo a ripassare un paio di volte poi risaliamo e ci portiamo ad uscire dalla 11 0 questa qui che si trova tra le nostre 15 questa qui che abbiamo inserito nel giro precedente bene ragazze io faccio il giro di rinforzo e poi risalgo fino ad uscire da questa 11 0 eccoci qui adesso facciamo la stessa identica cosa che abbiamo fatto qui sotto 6 rocaille 15 0 per creare anche qui sopra la solina quindi è veramente semplice 2 3 4 5 e 6 ok quindi vado a creare anche qui sopra la solina la vado a rinforzare con due giri e poi discendiamo e ripassiamo ancora una volta in tutta la nostra lavorazione dopodiché possiamo tranquillamente tagliare il filo ecco qui il cuoricino è terminato quindi ragazze dobbiamo farne altri due e poi dopo dobbiamo andare a incastonare il nostro rivoli eccoli qua realizzati anche gli altri due e adesso passiamo ad incastonare il nostro rivoli allora questo è il rivoli da 12 dobbiamo andare a mettere sul nostro filo 16 rocaille 80 quindi andiamo a fare la mia incastonatura con le 80 perché io sono anni che incastono con le 80 sono stata la prima e quindi ragazze posso dire che è la mia incastonatura con le 80 ho messo le 16 rocaille 80 sul filo sono rientrate in tutte le mie rocaille e adesso sto chiudendo a cerchio con due nodini quindi faccio un paio di nodini in questo modo così ok e poi queste due codine di filo le chiudo insieme quindi faccio questo lavoro così ci sono tranquilla tanto poi il nodino sparisce nella lavorazione e sono tranquilla ecco qua bene ragazzi quindi faccio un giro vuoto per rinforzare le mie rocaille inserite e poi la cominciamo a lavorare a peyote ecco qua come vedete il nodino adesso è all'interno delle rocaille e non si vede quindi iniziamo il primo giro a peyote con le 80 perché dobbiamo fare tre giri con le 8 e un l'ultimo giro con le 11 quindi inizio il mio primo giro con le 80 semplicissimo ragazze anzi anche più bella la l'incastonatura con le 80 perché abbiamo più superfici da poter decorare per quel motivo c'è un po perché più facile per me diciamo incastonare con le 8 per semplice motivo che ho dovuto abbandonare le delica per via della dell'abbassamento di vista quindi ho trovato questa validissima alternativa anche all'incastonare con le 11 e poi ovviamente visto che possiamo decorare come più ci piace la superficie ogni volta possiamo cioè otteniamo qualcosa di diverso quindi ragazze finito il primo giro quindi inizio anche il secondo faccio anche il terzo e poi dopo andiamo a chiudere insieme con le 11 quindi ragazze è sempre semplicissimo non c'è nulla di difficile quindi io adesso finisco il secondo giro inizio e finisco anche il terzo giro sempre con le 80 e poi facciamo il quarto giro con le 11 ecco qua ragazze ho fatto i miei tre giri con le 80 ho inserito i rivoli a faccia in su e adesso vado a stringere inserendo le rocaille 11 0 quindi come al solito una esco da una 80 inseriscono una 11 e mi inserisco nell'auto 0 successiva quindi fino alla fine del giro vado a stringere inserendo le rocaille 11 0 quindi ragazzi ci vediamo tra poco quando la lavorazione è bella stretta adesso stringiamo bene tiriamo bene il filo e facciamo un giro vuoto tra tutte le 80 e le 11 0 poi ci dobbiamo portare uscire da 180 e andare a creare anche lì la solina con 6 rocaille 15 0 allora per adesso vi faccio un giro vuoto tra le 11 e le 8 e poi dopo andiamo a fare la solina e dopo di che colleghiamo tutti i modulini per formare l'orecchino ho finito di ripassare attraverso le 11 le 8 adesso sto uscendo da questa 80 e io risalgo quindi il passo attraverso questa e sbuco da questa qui quindi in diagonale sarebbe la terza rocaille 80 qui andiamo a prendere sempre 6 rocaille 15 0 per andare a creare la nostra a solina di questa è l'ultima della serie bene ragazzi quindi adesso prendiamo 4 5 e 6 quindi 6 15 0 rientriamo nella 8 facciamo un paio di giri di rinforzo e poi dopo camminiamo ancora attraverso le nostre rocaille anche magari aspettate prima faccio i due giri di rinforzo e poi faccio vedere allora ho realizzato la solina l'ho rinforzata e adesso sto camminando attraverso le mie rocaille perché voglio bloccare per bene il mio filo quindi torno anche indietro proprio perché voglio bloccare per bene il mio filo e preferisco fare questa operazione proprio perché in questo modo sono tranquilla che il filo rimane bloccato attraverso le mie perline non voglio inserire picot proprio perché voglio lasciare così semplicissimo il mio orecchino poi se voi volete potete realizzare dei picot con le rocaille 15 0 io non voglio lasciarlo proprio semplicissimo quindi ragazze cammino ancora attraverso le mie rocaille e poi dopo taglio il filo quindi proprio semplicissimo così a posto adesso sono tranquillissima bene iniziamo ad assemblare il tutto iniziamo a prendere la monachella vado ad inserire il primo cuoricino in questo modo perfetto poi prendiamo gli anellini prendiamo gli anellini inseriamo nella solina è semplicissimo per questa operazione ecco così e chiudo state che non ho preso l'altra pinza una peppa dopo di finisco di sistemare quindi prendo il penultimo anellino lo vado ad aprire lo inserisco sempre nelle asoline e vado a chiudere dopo così stiamo meglio va bene prendo l'ultimo anellino che quello che poi congiungerà la solina del cuoricino in questo modo aspetta le ragazze aiuta ok alla una solina del rivoli quindi è proprio tra semplice però dovrà aprire un pochino di più ok quindi vado a montare anche il rivoli e poi vi faccio vedere tutte e due eccoli qua terminati terminato anche l'altro orecchino quello che abbiamo fatto insieme eccoli qui questi sono gli orecchini tris di cuori che comunque possiamo portare anche per capodanno perché ovviamente qualcosa di rosso c'è è un tutorial semplicissimo è un tutorial anche per utilizzare le rimanenze di drop duo come l'altro bracciale dove è fatto vedere quello che creiamo insieme con le perline versione eli dove utilizzato varie rimanenze di super duo qui possiamo utilizzare in questo modo le rimanenze delle drop duo e comunque ragazze da questi modulini noi possiamo tirar fuori girocollo bracciale e orecchini quindi possiamo realizzare l'intera parure perché ora vi faccio vedere un pochino ragazze vi do un po di idee allora questa è la metà di un bracciale ecco in questo modo noi abbiamo il bracciale in questo modo mettendo un altro riboli al centro abbiamo diciamo un pezzo di girocollo perché ovviamente possiamo continuare ancora con qualche modulino fatto con le drop duo e poi magari finire la catena il girocollo realizzando delle maglie sempre con le rocaille oppure una catena in acciaio o una catena in alluminio quindi possiamo fare in questo modo quindi orecchini bracciale e volendo abbiamo anche il girocollo come più vi piace potete anche montarlo in questo modo e niente quindi ragazze io con questo semplicissimo tutorial dove possiamo utilizzare le rimanenze di drop duo vi saluto ti mando tantissimi bacioni perlinosi e ragazze fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate a e prima di capodanno voglio farvi un altro tutorial perlinoso e niente quindi che altro dirvi a sì se non siete iscritte ragazze iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per tutti i video ecco questa è l'ultima cosa che volevo dire ragazze baci baci ciao a tutte